Cari tutti, la parola di Dio respira al fondo delle cose, in particolare al fondo della Sacra Scrittura, ma non soltanto al fondo della Sacra Scrittura. Quello che vorrei fare con voi in questi brevi appuntamenti è leggere la Sacra Scrittura, alcune pagine della scrittura, alla luce di alcuni passaggi di grandi opere di letteratura non religiosa, con l'idea che ciò che risuona nella Bibbia lo vediamo risuonare anche altrove e il modo in cui risuona altrove, nelle pagine di grandi scrittori, di grandi poeti, ci può aiutare a comprendere più in profondità ciò che la scrittura vuole dischiudere. Lo faremo in particolare attraversando alcune pagine della lettera di Paolo ai Filippesi, che in Diocesi quest'anno va per la maggiore e molto frequentata. Quello che faremo quindi non è un percorso di esegesi biblica sulla lettera di Paolo, che non sono in grado di fare, ma una passeggiata nelle pagine della lettera di Paolo anche attraverso il ricorso ad altre pagine di letteratura non religiosa. Allora vorrei quest'oggi passeggiare un po' con voi all'interno di alcuni versetti dell'inizio della lettera di Paolo. Sapete Paolo è in prigione, non abbiamo idee precise rispetto al tema di quando sia stata scritta la lettera, a quale delle varie prigionie che Paolo ha subito faccia riferimento il testo, ma sta di fatto che certamente Paolo è in carcere e dal carcere scrive ai discepoli di Gesù che si trovano a Filippi, che lui ha personalmente conosciuto, scrive questa lettera che è stata anche indicata come la lettera della gioia, perché spesso è un tema che ritorna, il tema della gioia e della fierezza che Paolo prova nei confronti di questi discepoli di Gesù che si trovano a Filippi. E proprio all'inizio della lettera, subito dopo l'intestazione, Paolo dice così. Ringrazio il mio Dio ogni volta che io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo dal primo giorno fino al presente, e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo. Questo mi fa pensare, il tema della diffusione del Vangelo. Quando mi capita di riflettere sul tema della diffusione del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo di Gesù che attraversa i tempi, i luoghi, i secoli e la geografia, mi viene sempre in mente, per contrasto, il famoso racconto di Kafka, tanti di voi lo conosceranno, no? Un messaggio dell'imperatore. Il racconto di Kafka, non è lungo, lo leggiamo tutto, dice così. L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta, nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, proprio a te, l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio, e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di quel che gli veniva detto. Ed inanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte, tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute, e sugli scaloni che si levano alti ed ampi sono disposti in cerchio i grandi del regno, dinanzi a tutti loro ha congedato il messaggero. Questi si è messo subito in moto. È un uomo robusto, instancabile, manovrando or con l'uno or con l'altro braccio si fa strada nella folla, se lo si ostacola accenna il petto, su cui è segnato il sole, e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme, e le sue dimore non hanno fine, se avesse via libera all'aperto come volerebbe, e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta, ma invece come si stanca inutilmente. Ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle, e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla, dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale, e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla, c'è ancora da attraversare tutti i cortili, e dietro a loro il secondo palazzo, e così via per millenni, e anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta, ma questo mai e poi mai potrà avvenire. C'è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tanto meno col messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra, e ne sogni quando giunge la sera. Kafka scrive questo racconto nel 1917, in un tempo apocalittico, di crisi sconvolgente dell'Europa in piena prima guerra mondiale, un mondo sta crollando, l'impero austro-ungarico sta crollando, l'imperatore sta morendo, l'imperatore sul letto. Un mondo che crolla, l'Europa sta misurando la profondità della sua crisi, la drammaticità, la tragicità della sua crisi. È come un enorme palazzo in fiamme che sta crollando sotto i colpi del fuoco, e da questa apocalissi infuocata, si sprigiona una scintilla. Il messaggero inviato dall'imperatore che vuole raggiungerti. Gli è stato affidato un messaggio di vitale importanza, destinato a te soltanto, a te precisamente, e il messaggero a parte, come una scintilla che parte dal grande incendio. In realtà Kafka, nel suo stile tipico, inizia il racconto ponendo già un dubbio. L'imperatore, così si racconta. Così si racconta. Non sei neanche sicuro che quello che si dice, che l'imperatore abbia pensato a te nell'ultimo momento della sua vita e ti abbia destinato un messaggio, non si è neanche sicuri che sia veramente così. Chissà se è veramente partito. Così si racconta, però... ma in ogni caso, se anche fosse partito il messaggero dell'imperatore, se anche fosse partito colui che ti deve destinare, recare questo messaggio di fondamentale importanza, messo anche che sia partito, guarda, non arriverà mai. Mai e poi mai questo potrà accadere. Perché ora che si fa largo, in mezzo alla folla, con questa folla in mezzo alla quale fa fatica di stricarsi, con un braccio, poi con l'altro, e poi però deve scendere gli scaloni, e poi attraversare i cortili, e poi l'altra parte del palazzo, e i rifiuti della grande città non arriverà mai. Eppure tu stai alla finestra e ne sogni quando scende la sera, nel tempo della malinconia. Benché non sia sicuro che il messaggio sia partito, e benché sia sicurissimo che se anche fosse partito non arriverà mai. Tu però lo aspetti, la tua attesa è disperata, la tua attesa è un'illusione, è un desiderio che non potrà realizzarsi. Ora, mi viene in mente questo racconto di Kafka perché il Vangelo, e in genere il Nuovo Testamento, in genere la grande tradizione biblica, ha invece la pretesa, la gioia e la fierezza, e la responsabilità di voler annunciare che il messaggero è arrivato, e che alla porta di ognuno stanno già risuonando i magnifici colpi. Il messaggio ci ha raggiunto, non è vero che non è partito, è partito, e non solo è partito, ma ci ha raggiunto fino in fondo. Questa dinamica del messaggio che si diffonde, del dono che ti raggiunge, è una dinamica iscritta già nei racconti dei Vangeli, già dall'inizio, no? Ricorderete che, ad esempio, il Vangelo di Giovanni comincia così, dopo il grande prologo iniziale. Il primo capitolo di Giovanni è il racconto di una successione di messaggi offerti che bussano alla porta del cuore di qualcuno, e quando questo qualcuno risponde diventa a sua volta messaggero. E c'è Giovanni Battista sulla riva del Giordano, insieme a due suoi discepoli, casualmente passa Gesù, e i due discepoli di Giovanni sentono il maestro Giovanni dire, ecco l'agnello di Dio. E allora i due discepoli lasciano Giovanni e si mettono sulle tracce di Gesù, e Gesù si gira a un certo punto e dice, cosa cercate? Maestro, dov'è che abiti? Dov'è che abito? Venite e vedrete. Erano circa le quattro del pomeriggio. A distanza di settant'anni da quando è avvenuto quell'incontro, chi scrive ricorda ancora il particolare delle quattro del pomeriggio. In quel momento i due discepoli si sono sentiti raggiunti dalla scintilla di fuoco, da un messaggio destinato a loro. Non sanno ancora qual è il contenuto di questo messaggio, non sanno ancora il contenuto di quell'incontro, ma quell'incontro ha segnato la loro vita, e a loro volta quella scintilla che li ha accesi li rende fuoco per raggiungere altri, per accendere altri, perché poi il primo capitolo di Giovanni continua così, con Gesù che il giorno dopo chiama Filippo. Filippo a sua volta chiama Natanaele e gli dice, abbiamo trovato il Messia, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Oh mamma mia, dice Natanaele, per carità, Nazareth, ma cosa vuoi che venga qualcosa di buono da Nazareth? E Filippo gli risponde ciò che Gesù il giorno prima ha risposto agli altri due. Vieni e vedi, c'è una scintilla di fuoco che vuole raggiungerti, te ne lasci raggiungere o no? Ti metti in gioco o no? Pensiamo anche all'Apocalisse, all'inizio dell'Apocalisse, tutto giocato su questo tema, di un messaggio che raggiunge e si trasmette per intermediari, di un fuoco che si accende e si trasmette per contagio di incendio. L'inizio dell'Apocalisse è proprio così, no? Si dice che Dio affida a Gesù il contenuto del suo messaggio e Gesù chiama Giovanni il veggente per consegnargli il contenuto del messaggio e Giovanni a sua volta dovrà trasmetterlo ad altri, anzi di per sé Gesù lo affida all'angelo, l'angelo lo affida a Giovanni e Giovanni lo affida a I, a coloro che leggeranno il suo scritto, l'Apocalisse e quindi anche noi. Il grande annuncio cristiano è, noi siamo raggiunti, siamo stati raggiunti e siamo continuamente raggiunti dalla scintilla di fuoco. L'amore bussa alla porta, che cosa farò? Non è vero, come dice Kafka, che il messaggio non arriva, che la mia nostalgia, il mio desiderio dell'incontro è destinato ad essere frustrato. Il grande racconto biblico dice, no, guarda, l'amore è competente, sa farsi presente, l'amore che desidera essere accolto troverà il modo e se ti metti in condizione di ascolto riconoscerai i magnifici colpi che già bussano alla tua porta. Allora il tema della cooperazione e la diffusione del Vangelo vuole mettere al centro questo, volevo dire questo. Noi siamo partecipi della grande avventura del fuoco che vuole diffondersi. Qualcuno ha detto che la Chiesa è il Vangelo che continua, la Chiesa è il Vangelo, il messaggio di fuoco che si diffonde nella storia. Noi siamo i portatori di questo fuoco, che cosa ne faremo? Lo accoglierò anzitutto perché bussa la mia porta? I magnifici colpi risuonano al fondo di me? e ne farò a mia volta oggetto di diffusione? Diventerò io stesso un diffusore di questo fuoco? Su questo siamo impegnati e il Signore ci accompagni.